Oggi il viaggio di Friulando arriva a Spilimbergo, simbolo delle eccellenze artigianali ed artistiche della nostra terra, in particolare per la scuola del Mosaico, la più importante accademia di arte musiva al mondo, erede dei talenti delle nostre genti. Qui siamo sul colle del castello di Spilimbergo, dove da quasi mezzo secolo si svolge Folkest, il più importante festival europeo di musica etnica e popolare. Per noi di Friulando, Spilimbergo è un simbolo del nostro progetto, per la sua autenticità. In un mondo standardizzato e globalizzato abbiamo scelto di puntare su territori e identità anche in campo artistico e culturale. Perché per noi di Friulando esiste un solo valore, l'unicità del Friuli Venezia Giulia, valorizzando e mettendo a reddito la cultura della nostra terra, con la creazione e diffusione di un brand per raccogliere le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e comunicare al mondo. E tu, caro imprenditore, cosa rappresenta per te la Friulanità?